Ed eccoci tornati in diretta, ancora ben trovati amici di Le Fonti TV e l'appuntamento a quest'ora lungo tutta questa settimana è proprio dedicato alla nostra TV Week, l'Asset Management TV Week. Come sapete Le Fonti TV organizza delle vere e proprie maratone, definiamole così, dedicate argomenti specifici, in questo caso parliamo di risparmio gestito declinato sotto vari aspetti e quello di oggi, guardate, sono sicura incuriosirà molto anche voi, lo leggete anche dal titolo in sovrimpressione, intanto parliamo di un cambio pelle, i giovani e l'approccio agli investimenti della next generation. Già la prima parte, cambio pelle, ci porta direttamente nel periodo che stiamo vivendo, è indubbiamente un periodo di cambiamento anche dovuto a tantissimi eventi esogeni e che stiamo cercando di controllare, soprattutto in materia di investimento. Figuriamoci se dobbiamo ragionare su come le nuove generazioni approcciano proprio il tema degli investimenti, come si è evoluto il rapporto con il tema investimento, anche sfatando dei miti che a mio parere oggi esistono, per esempio, uno su tutti, non parleremo di questi ma è un po' la premessa per dare poi la parola al nostro ospite, può investire solo chi ha a disposizione tanti soldi. Ecco, questo non è vero, insomma, anzi l'investimento può essere sicuramente utile in momenti di cambiamento, in momenti più difficili come quello che stiamo vivendo oggi. Intanto permettetemi di salutare e di ringraziare per avermi raggiunta in studio Federico Domenichini, Head of Advisory Italy per Tiro Price, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Intanto, è vero che un po' c'è questo falso mito dell'investimento che può essere fatto solo da chi ha a disposizione tanti soldi? Questo è assolutamente vero. Eh, ma ancora oggi si pensa a questo? Assolutamente sì, io lavoro per una società di investimento americana, è uno dei cardini massimi degli investimenti e conta molto più quando inizi a investire piuttosto che quanto, no? Quindi il famoso verbo del tempo, no? Quindi la variabile tempo è l'esponente che ti consente nel lungo periodo di avere performance molto importanti e quindi assolutamente sì confermo. Anzi, banalmente, peraltro adesso non stiamo a elencare gli diversi modelli economici proprio di risparmio barra investimento che danno la possibilità anche a chi non ha ingenti capitali di poter davvero creare un tesoretto nel corso del tempo, no? Dividendo proprio le entrate. Sì, assolutamente, sono i classici piani di accumulo, insomma gli investimenti programmati, però in genere... 50-30-20. 50-30-20, assolutamente. Diciamo che quello che conta tanto è la capacità di essere razionali in certi momenti di completa irrazionalità. È un po' divertente questo perché spesso i mercati finanziari hanno un'ipotesi che tutti gli investitori siano razionali, ma è un'ipotesi falsa, perché poi di fatto la maggior parte degli investitori tende ad essere irrazionale. Quindi il grande obiettivo che hanno la maggior parte degli investitori è essere razionali in momenti in cui l'uomo tende a essere un po' più emotivo e irrazionale. Insomma, l'emotività fa parte della nostra natura, però effettivamente quando si ha a che fare con la borsa, con i mercati, con gli investimenti, con i soldi, bisogna invece cercare di essere più fermi possibile. Sì, interrompo nel senso che il consiglio che do sempre anche agli amici è se non avete un metodo è molto probabile che quando arriveranno le opportunità di investimento non avrete il coraggio di investire. Questo è il primo insegnamento e mi piace perché seguo la ruota, insomma, la premessa che ho fatto io che voleva essere molto ampia per poi andare a declinare gli argomenti di questo appuntamento nella nostra asset TV Week. Il primo spunto che mi piacerebbe approfondire con te Federico, ci diamo del tuo, per anche praticità, è proprio come è cambiata la scelta di investimento all'interno dei nuclei familiari, perché chiaramente, in generale, il mondo della finanza, il fatto di capire come destinare le proprie finanze è sempre stato un po' compito dell'uomo, dell'uomo di famiglia. Mi chiedo se è ancora così oggi, oppure se è cambiato e quanto è cambiato, in che modo si è voluta anche questa prospettiva? Allora, certamente negli ultimi anni c'è stato un passaggio piuttosto importante, nel senso che sia la figura del consulente o il probabanker, sia la figura di chi gestiva il denaro, era sempre una figura abbastanza maschile storicamente, poi tra virgolette non è apparentemente maschile, poi il vero decision maker era da capire chi fosse all'interno della famiglia, perché secondo me il grande punto è capire in realtà chi è il vero decision maker, perché apparentemente l'uomo poi in realtà le decisioni anche in passato erano prese in realtà o insieme o anche alla donna, quindi secondo me in realtà non è cambiato così tanto nel tempo, forse oggi è più espressivamente, come dire, aperto il fatto è più palese, è più palese, sì esatto, è più palese il fatto che il decision maker non sia per forza l'uomo, questo è da un certo punto di vista importante, poi è cambiata anche la struttura familiare, diciamo, delle famiglie tradizionali, nel senso che ci esistono anche molte più coppie singole, io vivo a Milano e quindi ovviamente il fatto che sia cambiato anche la struttura familiare comporta anche dei cambiamenti su chi è il decision maker da questo punto di vista. Ma certamente poi comunque prima appunto, se vogliamo proprio tornare dietro nel tempo, la donna non lavorava e quindi non aveva disposizione anche, spesso non sapeva nemmeno quanto ci fosse sul conto corrente della famiglia, perché era proprio l'uomo, adesso ovviamente i tempi sono cambiati, mi fa piacere sentire che evidentemente forse i ruoli si sono un po' miscelati, un po' mischiati. Anche se purtroppo il tasso di occupazione femminile in Italia è ancora lontano rispetto agli standard europei. No, e anche se purtroppo, con un sorriso lo dico, ancora oggi quando si chiede di fare un identikit del consulente finanziario, di solito viene disegnato mentalmente in giacca e cravatta, appunto non sicuramente, questo ce lo dicono delle ricerche condotte da analisti eccetera eccetera. Oggi il mix è 80-20 circa, quindi 80% uomo nel mondo consulente finanziario, perché se si guarda il mondo bancario, anzi forse siamo a vantaggio del mondo femminile. Infatti il consulente finanziario. Ecco, bisogna ricordare una cosa però quando si parla di investimenti, che ovviamente il processo di investimento varia da soggetto a soggetto, cioè non è che c'è un modello unico naturalmente a cui possiamo basarci, bisogna capire quali sono gli obiettivi, anche qui ci possono essere tantissimi obiettivi, bisogna considerare le caratteristiche del profilo dell'investitore, no? Quali sono, se possiamo fare insomma una media, gli obiettivi principali che gli investitori oggi hanno? Allora innanzitutto partirei da una premessa importante, perché secondo le ultime ricerche Consob ancora circa due terzi, scarsi, il 60% degli italiani non fa una pianificazione finanziaria. Questo è circa il 60%, poi sono due ricerche fatte nel 2020 e nel 2021, sono pubbliche quindi può andare a vedere se sono tranquillamente consultabili, che però ci dicono che troppi italiani non pianificano finanziariamente il loro futuro, quindi è tutto fatto un po' al caso. Questo porta poi delle conseguenze drammatiche perché poi porta una cattiva allocazione delle proprie risorse, i propri risparmi e quindi un'efficienza e quindi poi un'infellicità finanziaria, no? Gli americani la chiamano financial wellness, no? Come se fosse un po' una spa finanziaria, no? E quindi da questo punto di vista la premessa... Non dormire sonni tranquilli, mettiamola così. Esatto, e poi cosa comporta quella fatto? La non pianificazione finanziaria, porta al fatto che tu il denaro non lo investi in base ai tuoi obiettivi ma non lasci nel conto corrente di liquidità perché non sapendo effettivamente quali sono i tuoi obiettivi poi sei immobilizzato. Poi arriva il momento come quello di oggi con un'inflazione al 10% e ti accorgi quello che accade. Però per dare anche dei numeri, le persone che ci ascoltano magari se ne possono anche rendere conto. Se avessi avuto 100 mila euro dati Istat nel 1995, equivalenti a 193 milioni e 627 mila euro, mila lire se non sbaglio, il tasto di cambio. Quindi provate a immaginare 100 mila euro nel 95 ipotizzati, il valore reale che nel 95 questi 100 mila euro sarebbero oggi sono circa 65 mila euro. Quindi il non investire non vuol dire non perdere nulla, vuol dire perdere sempre un pezzettino. E capisco che le persone fanno una fatica incredibile a risparmiarli e guadagnarli e poi non è finita. Questo però purtroppo è l'inflazione. Poi c'è anche un po' forse la, che è anche una cosa che riguarda me voglio dire, quindi mi metto in mezzo anch'io. Cioè il fatto di avere piacere nel vedere il nostro conto corrente che aumenta, mentre invece poi aumenta solo visivamente con invece degli investimenti mirati aumenterebbe invece in modo esponenziale. Però ci sono tutti questi fattori, che vanno poi a definire i comportamenti sbagliati in fatto di pianificazione. E il 65% devo ammettere è una percentuale che mi ha lasciata abbastanza, cioè che mi ha colpita particolarmente perché è elevata, siamo ben oltre la metà. Ecco, ma visto che noi dobbiamo parlare anche di giovani, non solo perché poi metteremo un po' a confronto le diverse generazioni, inevitabilmente penso che il loro approccio sia differente rispetto ad altre generazioni, ma in che modo? Allora, sicuramente le persone più giovani, chiamiamo le generazioni X, quelle che, scusate, X, Z, la X è quella più avanti con l'età. Così per far chiarezza, visto che ho fatto, diciamo, leggerissima confusione sui nomi, la Z sono quelli, diciamo, i più giovani, i millennials vanno dall'81 fino a circa il 95 e poi la X sono quelli più avanti e poi sono i baby boomers che sono ancora più avanti ancora. A volte ci complichiamo un po' la vita, comunque è sempre meglio dare il range dell'età, ma va bene, adesso abbiamo chiarito anche. Quindi l'eccezione Z è sicuramente una generazione molto attenta ai temi del sostenibilità, sul fatto che questo mondo deve ancora durare per diversi centinaia di anni, questo è sicuramente un tema molto caldo. I giovani sono anche molto attenti a tutto il tema delle criptovalute, NFT e compagnia. Io personalmente non sono un grande fan di questi temi, ma non tanto perché non penso che siano dei temi di investimento a lungo termine non interessanti. Penso spesso che le persone più giovani dovrebbero prima fare un po' back to basic, cioè guardare prima le basi e poi allargare un po' gli orizzonti, perché il rischio è che poi spesso queste persone, i ragazzi, si mettono a anima e cuore su temi di investimento molto complessi e spesso non corra di portafoglio e si perdono poi invece delle opportunità incredibili sui strumenti più tradizionali. Questo è il primo punto fondamentale. E poi al di là di perdersi magari delle opportunità su strumenti più tradizionali, proprio bisogna capire, credo, i meccanismi dei mercati tradizionali, prima poi di capire quelli dei mercati alternativi, come per esempio il mercato cripto, no? Assolutamente, ma basta toccare un esempio pratico, no? Uno tocca il tema dell'NFT, no? E quindi acquista magari un non fungible tokens e poi si è dimenticato un piccolo concetto che si chiama diversificazione. Quando uno investe in uno strumento singolo rispetto a un mercato libero, liquido, con tante possibilità di diversificare, conta tanto, no? E quindi poi chi si è fatto male... Certo, se casca quello casca tutto, no? Assolutamente, quindi il tema della diversificazione spesso nei ragazzi più giovani non solo è un tema che ci fa vedere, no? Il rendimento di breve periodo, ma ci fa perdere di vista quando le cose non vanno sempre bene, no? E poi purtroppo di questi concetti ce ne ricordiamo quando le cose poi non vanno bene. Eh certo, quindi Federico tu mi hai già un po' risposto alla domanda che ti avrei fatto adesso, cioè tutto il tema del metaverso, criptovalute, NFT. Pensi comunque che possa essere uno dei driver per il futuro? Cioè, forse con queste prevenze che hai fatto. Assolutamente. La risposta è sì con queste prevenze. Assolutamente, cioè sono dei temi importanti. Poi in realtà quando si parla di criptovalute, secondo me, è molto importante riflettere su cos'è più importante quando si parla di cryptocurrency, che è il tema del blockchain, cioè quello che conta tanto. E rivoluzionare forse il mondo è la cosiddetta catena blocchi. Questo avrà degli impatti e delle conseguenze non solamente sul tema finanziario, ma anche su interi altri settori. Basti pensare agli smart contracts che stanno prendendo piede. Quindi ha sicuramente un futuro molto importante, però va messo insieme a una serie di strumenti che non sono solamente quelli, insomma, delle cryptocurrency. Anche perché sono criptocarenzi che si sono anche, vuol dire, volatilizzate. L'errore è proprio quello, forse, di buttarsi nella novità, senza però conoscere, senza sapere poi se ci sono delle basi solide intorno a quella realtà e poi vedere volatilizzato un qualcosa che però fa volatilizzare anche i nostri soldi. Assolutamente. E' il problema perché se si volatilizza una cripto, non puoi dire, vabbè, poverina lei, ma se si sono volatilizzati i nostri soldi, magari sono anche i nostri pochi risparmi, figuriamoci. Diversificazione, primo mantra fondamentale. Esatto, a prescindere da tutte le novità che possono essere. Questo lo ripetiamo, io che non sono una consulente finanziaria, ma una semplice giornalista economica, lo ripeto, sempre, sempre, sempre. La prima regola, se ci si attiene a quella, è già un aiuto molto, molto importante. A proposito del mondo della consulenza finanziaria, perché questo vuole essere una riflessione a doppio binario. Allora, intanto l'aggancio può essere questo, visto che il mantra è la diversificazione in un investimento, appoggiarsi a persone che ne sanno, cioè affidarsi al consulente finanziario. Quindi noi, per noi intendo tutti, generazioni nuove, vecchie, eccetera, dobbiamo avere un modello di riferimento, però, perché a doppio binario, anche il modello di riferimento che prendiamo noi deve essere consapevole di quelle che sono le esigenze non solo del cliente che si trova davanti, quello, insomma, è compito numero uno, ma anche di sapere che cosa in generale una generazione vuole. A oggi, i consulenti finanziari sono consapevoli di quello che le nuove generazioni chiedono e di come le nuove generazioni concepiscono gli investimenti. Allora, io credo che questa sia la più grande sfida che il mondo della consulenza finanziaria ha di qui ai prossimi dieci anni. Credo che sia, come dire, il vero punto di differenza che farà una rete che avrà successo. Perché sai, scusa, mi faccio, non vuole essere una nota polemica, ma ancora più di riflessione. A volte, diciamo, i giovani non capiscono bene come funziona il mondo, in questo caso finanziario degli investimenti, sì, ma appunto, ma chi ci lavora nel mondo finanziario? Sa che. Sa come è cambiato l'approccio? Non è che anche è quello importante. Certo, certo. Ma quindi, come dicevo, è la più grande sfida che ha il mondo della consulenza finanziaria. Sia perché, da un lato, l'età media di un consulenza finanziario oggi è tra i 50 e i 54 anni, forse intorno ai 52 anni. Quindi è abbastanza giovane, ma comunque si sta avviando, diciamo, non nella parte core della sua carriera da questo punto di vista. Quindi questa è una grande sfida. Do un numero. Il 50% degli eredi cambia intermediario finanziario quando c'è il passaggio generazionale in Italia. Ok. Quindi la metà dei clienti... Ricordami ancora la percentuale. 50. Il 50. La metà. Cioè la metà degli eredi che ricevono un patrimonio, quindi più giovane rispetto all'erede originale che purtroppo è venuta a mancare, cambiano intermediario finanziario. In America questa percentuale è intorno al 90%, così per dare l'idea. Uno potrebbe sembrare un dato più rassicurante dicendo ma in Italia si cambia meno intermediario finanziario. Sì, ma uno su due quando c'è un passaggio cambia. Questo cosa ci dice? Che probabilmente quel banker o quel consulente non era così attrattivo nei confronti delle generazioni più giovani. Quindi per questo è una grande sfida per il mondo della consulenza finanziaria. Perché questo? E' perché capire nuove generazioni non è banale. E infatti non è un caso che la maggior parte delle reti di consulenza finanziaria oggi spesso fanno dei team o link con consulenti più senior o consulenti più junior. Perché ovviamente è un modo per avere anche un linguaggio simile al nuovo erede. Che magari ha un background, un modo di pensare molto diverso. Ma basti pensare a una persona che magari fa questo lavoro come consulente finanziaria e ha 60-65 anni, che non è sicuramente nativo digitale e si interfaccia probabilmente con un trentenne che ha un modo di ragionare, di interfacciarsi anche con la tecnologia completamente diversa. Anche di parlare, anche il tipo di linguaggio utilizzato. Poi è ovvio che il linguaggio universale economico finanziario e degli investimenti resta però il modo proprio di rapportarsi a livello anche lessicale. Assolutamente. Anche perché l'eredi ti vede come il consulente del padre o del nonno, che quindi ovviamente, no? Sì, anche se poi quello potrebbe dare una garanzia di affidabilità, no? Il fatto di dire, e probabilmente qualcuno lo fa, dipende anche che tipo di consulente si trova di fronte, ma insomma sapere che magari questo consulente ha gestito gli affari di famiglia fino a quel momento, dà maggiore solidità alla nostra idea di investimento futuro. Però dall'altro, lo vedo anche in fase critica, la persona più giovane potrebbe immaginare il consulente come quello che ha a fine carriera e quindi ha meno spunti rispetto al ragazzo più giovane. È molto challenging per il mondo della consulenza. Di quello che sta aspettando di andare in pensione, basta. Eh beh, insomma. No, però i giovani lo pensano probabilmente. È la grande sfida che ha il mondo della consulenza, no? E quindi per cui nascono i team, i link, poi ogni rete li chiama in modo diverso, e anche per mettere insieme delle competenze, è anche un modo di pensare, di vivere, di ragionare, anche semantico, con un consulente più senior e un consulente più junior, che interfaccia un tipo di clientela un po' diversa. Ma quindi c'è consapevolezza oggi da parte dei consulenti finanziari? C'è abbastanza consapevolezza, ma soprattutto nel mondo delle banche tradizionali c'è un bel gap anche dovuto alle crisi bancari italiane, anche di numero di, diciamo, di target di età media che c'è nel mondo bancario. Se non vuoi rispondermi non è un problema perché è una domanda assolutamente non contemplata, ma i giovani si fidano di più delle banche o dei consulenti finanziari? Non ho questo dato, però in generale, non so sui giovani, in generale sulle persone, quindi sicuramente le persone hanno più legame col consulente finanziario, semplicemente perché il consulente finanziario è più... Indipendente, quindi non legato a un istituto di credito. No, 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 in consulente finanziario è inteso come sia indipendente che dipendente. Ah, ok, ok, senza differenzazione. In questo ruolo, diciamo, OCF, diciamo così, che è nell'albo dell'OCF, tendenzialmente rispetto a un dipendente, il consulente è in una media, eh, non è, questo non vuol dire... No, certo, qui sì, ovviamente sono tutte medie e poi comunque... Però se uno guarda il tasso di retention, mi verrebbe di questa parola in inglese, non so manco metterlo in italiano, come il tasso di, come dire, di legame che ha un cliente verso un consulente è sicuramente più alto rispetto a un dipendente magari di realtà bancaria. Questo era interessante, visto che abbiamo citato anche il mondo delle banche, insomma, è importante soprattutto anche capire se le nuove generazioni sono più o meno attente alle dinamiche bancarie oppure alle dinamiche dei... Forse il vantaggio delle banche è che hanno una gender diversity, quindi hanno più donne, più uomini rispetto a quello che ha il mondo della consulenza finanziaria. Però sta cambiando anche il mondo dei consulenti finanziari, comunque il numero delle donne stanno crescendo, forse dovrebbero crescere di più. E poi statisticamente è dimostrato che le donne sanno gestire meglio il denaro degli uomini. Sì, ci sono diverse tesi, studi, statistiche, diciamo che è un modo diverso che ovviamente tiene conto anche di diverse fasi e di più fasi che sono quelle femminili rispetto a quelle dell'uomo, perché una donna ovviamente per forza di cose, anche solo se decide di avere un figlio, eccetera, cambia il suo modo di rapportarsi al denaro. Adesso si comincia a tener conto di tutto questo e forse in parallelo è per questo che nascono figure professionali femminili. Altro aspetto importantissimo che non riguarda solo le nuove generazioni, ma tutti, un tema a mio parere che è stato un po' congelato per l'emergenza Covid, adesso un po' per i mercati che sono un po' in subbuglio, mettiamola così, ma che da cui non possiamo prescindere, insomma, e che soprattutto può aiutare nei momenti di emergenza, se si investe però, il tema ESG. Ok. È vero che i giovani sono più attenti alle tematiche ESG? Domanda numero uno, perché poi c'è un'altra faccia della medaglia, cioè il fatto che i giovani si affidano molto di più, per esempio, a acquisti online, Amazon, eccetera, che sembrerebbe un po' smentire questa attenzione verso le tematiche ESG. Ecco, facciamo il punto su questi aspetti. I dati, diciamo, che hanno fatto varie istituzioni finanziarie, anche, insomma, autorità regolamentari, ci dicono che sicuramente le persone più giovani, generazione Z, ma anche millennials, sono sicuramente molto attenti al tema della sostenibilità. Questo è un dato di fatto. Poi che stia diventando, ora sto utilizzando questa parola un po' pericolosa da dire, ma la dico, un po' una moda, tra virgolette, non è per forza qualcosa di negativo. Cioè, se una cosa positiva diventa una moda, mica è una cosa brutta, anzi. Cioè, anzi... Beh, ci affidiamo ormai a tutti gli influencer che ci danno le loro regole, se quella non è una moda, tra virgolette, però poi se sono persone che ne sanno, aiutano, indirizzano. Mi direbbe di dire che è un tema assolutamente che ormai tutti i principali asset manager del mondo si sono un po' attrezzati su questo, come dire, sulle varie categorie di sostenibilità, ma che però ancora c'è ancora tanto da fare, perché poi, io dico sempre, il diavolo sta nei dettagli. Un discorso è avere una strategia di investimento che è ISG, un altro è poi, come dire, perseguirla anche nel tempo, con una serie di regolamentazioni che poi vedremo in Europa come si comporterà. Quindi, da questo punto di vista c'è ancora tanto da fare. Però i giovani sono una grande, direbbe dire, spinta gentile, nagge, no? Direbbe il grande premio Nobel. Sì, diciamo che se loro ovviamente sono mossi dalla volontà di fare delle cose, sono sicuramente coloro che potranno farlo. Un'altra parola chiave, credo, che tu hai appena usato, è quella della regolamentazione. Tutto ciò che ha a che fare con le novità, prima abbiamo parlato crypto, eccetera, e anche il mondo ISG, eh beh, sono ancora un po' carenti di regolamentazione e quindi già quello, cioè, bisogna, credo, prima andare a riempire quel vuoto, no? Che ancora oggi... Ci vuole tempo. Cioè, non possiamo pensare che siamo passati in pochi anni da avere tutto, diciamo, libero, poi il mondo ISG, ora lo dico in termini tecnici, articolo 6, articolo 8, articolo 9 sono le regolamentazioni dell'SFDR, che è una, diciamo, una direttiva europea, ora però non entro troppo nel tecnico. No, no, va bene, certo. Però, diciamo che ci vuole tempo, non possiamo pensare di fare questi step, no? Immediati, così veloci. Però, certamente è un tema positivo, eh. Ecco, ma quanto tralineranno e trascineranno entrambi i verbi, le scelte di investimento, le tematiche ESG, secondo te? Lo faranno tanto, principalmente però la spinta arriverà dal mondo anche dei consulenti finanziari e da prova banker, perché in questo momento è vero che i giovani sono attenti alle tematiche ESG, ma se io oggi fermo un cliente in piazza Cordusio e gli domando qual è la tua priorità di urgenza sul tuo portafoglio, probabilmente ti risponderebbe aiutami a recuperare sulla componente obbligazionaria che perde più del 10% all'inizio dell'anno. Eh, appunto. È probabilmente più interessata la tematica ESG, no? Certo. Quindi, certamente è, come dire, una sensibilizzazione deve arrivare dal tuo prova banker, dal tuo consulente finanziario e poi matchandola anche con gli interessi che poi le nuove generazioni hanno su questi temi. Quando ci sono mercati che scendono così tanto come nel 2022, è ovvio che la tua priorità un pochino cambia per forza maggiore. Perché bisogna prima andare a risolvere le emergenze e poi c'è sempre un po' di resistenza quando si usa la parola sostenibilità e tutto quello che ruota intorno a questa parola perché si pensa che implichi costi maggiori, che magari è anche vero, però a lungo andare, ovviamente qua si parla di investimenti a lungo termine, invece danno dei benefici più avanti. Però, insomma, è chiaro che, come hai detto tu, nel momento in cui c'è precarietà magari si accantona l'idea, no? Un attimino. Sì, che poi alla fine è un modo di fare una spinta graduale e gentile, come dicevo, nei confronti dell'azienda, no? Quindi se io sono un asset manager che seleziono le aziende con dei criteri, magari spingerò anche l'amministratore delegato di una certa azienda a comportarsi in un certo modo. Quindi, ovviamente questo avviene nel tempo, in gradualità, negli anni, questo però nel lungo termine porta i cambiamenti, no? È la famosa tartarughina che constantemente fa un passettino e dopo dieci anni ti vedi, no? Un chilometro e dici, come ho fatto ad arrivarci, no? Eh, certamente sì. E erano i piccoli passettini. E senti, ancora parlando di passaggio generazionale, che è un po' il, diciamo, l'argomento che sta muovendo tutte le nostre discussioni e ragionamenti, è una tematica molto importante per tutte le industrie, ovviamente. In particolar modo per quella del risparmio gestito, che si inserisce nella nostra settimana tematica. Come, ancora qui, no? Rapporto bionivoco. Come i consulenti possono aiutare le famiglie in questo contesto e quali sono anche i giusti argomenti, le giuste corde, chiamiamoli come vogliamo, che un consulente deve toccare per far sì che vengano anche recepiti i concetti corretti e per instaurare un rapporto ottimale con le nuove generazioni. Allora, guardando un po' l'esperienza americana, il primo consiglio che diamo sempre è, anche ai consulenti finanziari, soprattutto quelli avanti con l'età, provate a immaginare avere un collega che ti aiuta a interfacciarsi con clienti più giovani, perché questo è il primo step. Cioè, io immagino un consulente di 60 anni che si interfaccia con un ragazzo di 20, potrebbe essere visto sì come una persona esperta, ma probabilmente il gap generazionale potrebbe non portare a parlare la stessa lingua. Certo. Questo è il primo punto. Quindi creare anche dei team dove si crea un consulente più senior con un consulente più giovane. E poi l'altro grande tema, e questo devo dire che è stato dimostrato anche in psicologia, ovvero quando un consulente sta vicino, nei momenti importanti della vita di un cliente o di una famiglia, che possono essere la nascita di un figlio, un cambio di lavoro, purtroppo una mancanza in famiglia, da un punto di vista, diciamo, di un caro che se ne va, Certo. Oppure l'acquisto di una nuova casa. Quando il consulente sta vicino, in questi momenti, indipendentemente da parlare di mercati finanziari, la percezione che ha il cliente è estremamente più alta rispetto ad altri momenti. Quindi conta molto di più stare vicino a un cliente in cui 5-6 momenti importanti è la vita, che poi ovviamente... Quando ci sono cambiamenti di varia natura, siamo tutti più vulnerabili, no? E quindi è ovvio... E il cliente tende a ricordarselo molto di più. Certo. Poi sono 10 momenti importanti, dico, nascita un figlio, nascita un nipote, cambio lavoro, compro una casa, quindi momenti che può essere divorzio, matrimonio, questi momenti... Momenti che presuppongono una gestione delle finanze diverso da quello che c'è stato fino a quel momento. E che emotivamente poi ti possono anche cambiare tanto. Se tu, consulente, stai vicino in quei momenti, come dire, l'avviamento positivo, il goodwill che riesci a generare nei confronti di quella persona è estremamente più alta. Quel meeting là, quell'incontro là, vale 50 incontri al caffè nei successivi tre anni, no? Perché hai una forza emotiva nei confronti di quella persona molto più importante. Assolutamente sì, ma insomma, questo cambio di pelle da cui siamo partiti, che è anche il titolo di questo nostro approfondimento, come si può definire? Perché quando si parla di cambio pelle, dipende per cosa si deve cambiare pelle, però, diciamo, include anche il cambio pelle in momenti, chiamiamoli dolorosi, ma dolorosi vuol dire che dobbiamo staccarci anche da alcune convinzioni che abbiamo avuto fino a quel momento, e quindi per forza di cose dobbiamo fare un po' a botte con noi stessi, no? Perdonatemi l'espressione, un po' poco felice, ma insomma rende l'idea, e quindi come possiamo definirlo, questo cambio pelle, per cominciare a tirare le somme e arrivare a conclusione? Questo per i consulenti. Sì, certo. Ma i consulenti, secondo me, la grande sfida... Perché poi da lì parte tutto, no? I consulenti si approcciano nel modo giusto, anche le nuove generazioni riusciranno a... Assolutamente. ...ad accogliere gli insegnamenti. E qui mi viene in mente, soprattutto pensando a quello che sta facendo il mercato americano sul mondo dei financial advisors, in cui il consulente, che poi è financial advisor, la traduzione letterale, diciamo, fino a qualche anno fa era un advisor, quindi dava consigli. L'idea invece è che il financial advisor sempre di più diventa un coach, quindi diventa un allenatore. Questo passaggio tra advisor e coach, secondo me, è il grande passaggio che determinerà anche il successo di... È un tema che mi hanno già avanzato e profilato senza però averlo approfondito e sarebbe un tema invece da approfondire, ma nel senso che diventa un tutt'uno questo ruolo? Diventa un tutt'uno e, tra virgolette, un educatore finanziario, ma che poi ha un coach che ti segue e ti aiuta, no? E quindi questo è un po' diverso rispetto a quello che lo chiami, ti dà un consiglio e finisce là. E poi basta, no? No, no, infatti. Questo è completamente diverso e poi ti ha un tasso anche di legame nei confronti della famiglia o del cliente molto più alto, no? Sì, e la fiducia anche, no? Ci guadagna, quindi, insomma. E invece se dovessi chiederti così, visto che abbiamo parlato di coach e di advisory, e tu lo sei, advisory, ma alle nuove generazioni, appunto, quali sono tre punti veloci da seguire, insomma? Ma improvvisiamo, eh? Improvvisiamo, ma io... Che poi è un po' al riassunto di quello che abbiamo detto in questa puntata. Sì, sì, no, no, assolutamente. I tre regole da seguire, che rimangono valide anche perché c'è 100 anni, sono obiettivi. Sì, a parte che esatto, sono d'accordo, che poi le regole base valgono per tutti, non è che cambia a livello anagrafico, insomma. Se c'è un ragazzo di 20 anni che ci sta ascoltando, gli direi, uno, stasera, prima di andare a letto, pensa veramente a quali sono i tuoi obiettivi della vita. Dai un nome a questi obiettivi e lì pensa a come ci puoi investire. Questa è la prima regola base. Pensa veramente ai tuoi obiettivi. Secondo, datti un metodo o fatti aiutare ad avere un metodo. Terzo, fai lavorare il tempo, che c'è un sacco di tempo a disposizione. Queste sono le tre regole che fanno avere un portafoglio finanziario che potrà avere successo. Tu giustamente hai detto giovani di 20 anni, ma tutti, insomma, anche perché poi gli obiettivi è anche un'altra regola dell'investimento, cambiano, non è che se io stabilisco un piano di investimento oggi me lo devo tenere vita natural durante. Anche se ce n'è 60 uguale, non cambia niente. Appunto, perché intanto possono cambiare le mie entrate, nel bene e nel male. Cioè magari cambio lavoro, guadagno di più, oppure perdo il lavoro e non guadagno più quello che guadagnavo prima, oppure decido di comprare una casa, quindi devo rimodulare le mie uscite. Ma, oppure perché ci sono delle novità che si inseriscono nel mercato e che quindi considero, perché dico, aspetta, cos'è questa nuova possibilità di investimento? Quindi non è che si... E quindi, insomma, valutare anche, per questo è importante quello che dici, avere un coach che ti segue, perché altrimenti non si riesce a seguire passo dopo passo. Il cambiamento. Direi che siamo arrivati proprio anche alla parola da cui siamo partiti, appunto il cambiamento, no? E questo è... Abbiamo detto tutto? Cosa ne pensi? Beh, penso di sì. Poi... Obiettivi, tempo e metodo rimane il mio mantra. Ecco, esatto. Obiettivi, tempo e metodo. Questo lo ricorderemo anche noi più spesso. È sempre un insegnamento anche per noi. Io ringrazio, quindi, Federico Domenichini, Head of Advisory Italy, Tiro Price. Naturalmente, insomma, poi, tutti gli ospiti che arrivano qui da noi sono a disposizione attraverso proprio i loro canali per dare degli approfondimenti ulteriori rispetto a quanto possiamo fare noi in uno spazio televisivo, ma, insomma, credo che sia stato interessante e aspettiamo i vostri feedback e noi siamo sempre a disposizione. E mi auguro di trovarti presto anche da noi. Grazie a voi. Grazie mille. Grazie, grazie mille. Chiudiamo questo live di oggi con la nostra puntata dedicata all'Asset Management TV Week. naturalmente rimanete sulle fonti TV con tutti i nostri approfondimenti e vi auguro un buon proseguimento di giornata.